Buongiorno a tutti i 2507 iscritti al gruppo La Fenomenologia di Celibidache. In 11 anni siamo arrivati a questo traguardo. Sono Raffaele Napoli, sono il fondatore di questo gruppo, che è nato per diffondere la fenomenologia musicale, così come l'ha praticata e insegnata Sergio Celibidache. Perché faccio questo video? Mi decido a fare questo video? Perché è arrivato il momento di diffondere il più possibile questa conoscenza, questo senso di consapevolezza. Ed è per questo che ho deciso di fare degli incontri in presenza. E il video ha la finalità di chiedere la vostra collaborazione. In che senso? Se conoscete associazioni culturali, musicali, aggregati umani, che possano essere interessati a questo discorso, a un approfondimento dell'ascolto consapevole, vi prego di segnalarmi queste istituzioni alle quali io mi posso rivolgere. Certo, io ho trovato l'elenco di tutte le associazioni musicali, di tutte le associazioni culturali, ma un conto è ricevere una letterina, una mail, in cui c'è scritto «Buongiorno, sono Raffaele Napoli, vi propongo questo, quest'altro». Diciamo «Ma chi è questo?» Sì, leggono il curriculum, vedono delle cose, ma non è questa la cosa importante. Altro è voi che sapete di che cosa si tratta. E allora voi potete essere i partecipanti ad un coretto, chiamiamolo così, un coro, che spinge perché questa cosa si realizzi. Allora, se voi farete una segnalazione negli ambiti, avete tutto il tempo di pensarci, naturalmente non abbiamo fretta, perché l'obiettivo è arrivare a fare questi corsi. Allora, se voi avete qualcuno a cui potervi rivolgere, che mi potete segnalare, indicatemelo. Faremo un servizio importante a che questo approccio ai fatti musicali non muoia. Vi ringrazio. Questa è la cosa più bella che potete fare come partecipanti a questo gruppo. A presto, contattatemi. Questa è la cosa più bella. Questa è la cosa più bella, Grazie.